La rassegna a cura delle donne di Parma mette insieme donne che sanno fare rete e che sanno riconoscere a vicenda il proprio valore e anche il proprio peso diciamo in ordine la vita delle altre donne. Fare questo ragionamento con te a pochi giorni dalla giornata contro la violenza alle donne per me assume un significato particolare perché tu sei una donna che si batte per i diritti e in particolare per quei diritti che ancora non sono pienamente riconosciuti come tali da qui il titolo del tuo libro nessuna causa è persa perché appunto molte di queste cause di queste vicende di queste battaglie a darle per perse sono gli stessi protagonisti cioè all'inizio tu a un certo punto in una pagina dici ci sono cose che neanche le vittime pensano di poter di poter difendere cioè questioni su cui neanche chi le subisce pensa di poter ottenere giustizia perché una donna in tut nell'arco della sua vita pensa che sia normale ricevere almeno una molestia perché quale donna non ha ricevuto una molestia una persona lgbt pensa che un insulto omofobo nell'arco della vita ti possa capitare perché fa parte proprio dell'essere una persona percepita da chi detiene la norma come deviante quindi c'è molto difficile iniziare quel tipo di battaglie perché le persone stesse che subiscono l'ingiustizia e le percepiscono come storture ma non sempre sono in grado di dire lì c'è un diritto mio che viene negato quindi